Ci sono giorni in cui guardo il mondo e mi sento senza speranza, come se niente avesse senso. Circondata da uomini macchina, con macchina al posto del cervello del cuore. Tutti noi esseri umani dovremo aiutarci sempre e godere della felicità del prossimo. La vita può essere felice e magnifica, ma noi l'abbiamo dimenticato. Gli esseri umani hanno la forza di creare le macchine, di creare la felicità, ma non l'abbiamo dimenticato. Grazie.